Le tante patologie della sanità calabrese sono state illustrate nella relazione del referendario Stefania Anna Dorigo durante l'udienza pubblica nella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dedicata al giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio 2019. La Regione ha evidenziato Dorigo in apertura dal 2019 in condizione di piano di rientro sanitario. Un documento varato senza neppure riuscire a quantificare correttamente il disavanzo a causa di un contesto di assoluta inattendibilità come ben evidenziato nel 2008 nella relazione al Parlamento del prefetto Silvia Riccio. La sanità regionale non ha sempre approvato i bilanci e negli ultimi atti ufficiali di bilancio risalgono in specie al 2014. Ciò premesso, dieci anni dopo, ossia nel 2019, il disavanzo sanitario è passato a 225,418 milioni di euro dopo il conferimento delle coperture derivanti dal gettito delle aliquite fiscali massimizzate il risultato di gestione evidenzia un disavanzo di 118,796 milioni di euro. La Corte dei Conti ricorda inoltre che in questi dieci anni i cittadini calabresi hanno continuato a finanziare copiosamente la sanità con il versamento delle extra aliquote IRAP ed IRPEF finalizzate a ripienare appunto i disavanzi che via via si manifestavano. Appare in questo controllo disastrosa la situazione dell'ASP di Reggio Calabria. Già nelle precedenti relazioni di parifica la sezione di controllo aveva evidenziato la grave situazione dell'azienda sanitaria in questione, in particolare per l'omessa approvazione dei bilanci, per la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, per l'ingente esposizione debitoria e per l'incapacità dell'ASP stessa di avere una cognizione completa dei debiti pregressi. Fra l'altro la sezione di controllo della magistratura contabile fa presente che già a gennaio 2020 ha chiesto informazioni ai presidenti dei collegi dei revisori di ASP e aziende ospedaliere con riguardo all'esposizione debitoria e a livelli essenziali di assistenza. L'ASP reggina è l'unica che non ha fornito riscontro e alla data della stesura e della bozza di relazione della sezione non risulta approvato per l'esercizio 2019 il bilancio consuntivo.